In primo piano Il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha incontrato il Capo dello Stato Giorgio Napolitano il 6 marzo a Torino in occasione di un convegno del Consiglio Superiore della Magistratura sulla magistratura nella storia dell'Italia Unita. Ancora una visita del Presidente della Repubblica in onore a Torino e a Piemonte verso la fine del 150 anni dell'Unità d'Italia per un importante convegno su un tema delicato come quello del futuro della giustizia. Certamente la presenza del Presidente della Repubblica con dichiarazioni chiare come sulla questione della TAF, del treno alta velocità che è un'infrastruttura fondamentale per il Paese e per Piemonte non possono che per le persone che sono nelle istituzioni, per le persone serie che rallegrare questa giornata con pioggia.